Ma che bello, bello ma con dirondi rondello Ma che bello! Ma che bello! Castello, Marcondi, Rondelli Oh, che bel Dimmi ancor piu' bello, Marcondi, Rondelli l'olio, for piuue bello ma con-di-ont-di ron, dhron, dhron, dhron ma che bee-llo ma che bello bello ma con-di-ont-di ron, dhron, dh ma che bello bello ma con-di-ont-di scegliami! eh, scusate mi da una dolce creatura e allora FWD vado incontro al creato dove vai tu che sei novella? novella ma with dhron, dhron dhron, dhron dhron, factor E' bello! Per piacere, basta, basta! A livello! E che brutta figura! Andiamo noi che siamo del comitato accoglienza. Buongiorno. Buongiorno. Posso conferire? Certamente. Sto cercando una persona. Eh, mi spiacente, devi andare al comune. Oppure se i carabinieri possono fare qualche cosa, non so. No, ma che c'entra? Io sto cercando un frate. Ah, noi siamo noi allora. Ecco. Che succede? Sto cercando proprio un frate... Frate Francesco. Bene. Qui ci chiamiamo tutti Francesco. Eh sì. Siamo francescani. Justamente, è chiaro. Allora, frate Francesco. Me? Eeeh, corporatura media 1,75 di altezza. Sì. Me? 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 Mentre le 3,75 con corporatura media. Quella è standard. E poi diciamo, come regolamenti. Sì. Con frate Francesco hai i capelli brizzolati. Sì. Zia. Che c'è il fratella. Che c'è il fratella? Che cazzo c'è? Ah mi muore. Capito. Eh, che c'è? Eh sì. Oh, ma tu. Che devo fare? Un particolare. Io lo devo trovare per forza perché io e frate Francesco e da una settimana che tutte le notti, tutte le notti, tutte le notti ci troviamo. E questa è una cosa che non si può sentire, veramente. Tutte le notti. Tutte le notti. Questa è una cosa che non si può sentire. Non si può sentire, non so perché volete a me. Sono cose che succedono. Come si fa a trovarlo? Qualche particolare. Veramente lui ha un segno distintivo. Dove c'è il distintivo? E ditelo. C'è un distintivo, c'è l'etichetta. Che c'entra? Un segno distintivo, una cosa che lo distinghi. Un particolare. Tipo? Frate Francesco. Sessualmente. 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 28 centimetri. Qua? 28. Hai capito chi è? E dite. Dite. Avete capito chi è? E questo è il mio. 28 centimetri? Sì. E tutta una volta dovete capire. Eh. Ma come avete fatto? Di 28 ce n'è uno. Tutti gli altri ne abbiamo 31. Ah. Facciamo la gara. E va bene. Sì. Sei scelto il menu dotato. Scusi. Esatto. Sì. 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 Sì.